Con il capitano della Visnova Basket Roma. Allora capitano, oggi avrei avviato la classe individuale? Ma non direi, io penso che comunque al di là dei canistri individuali del gioco che è stato scelto a rubi, siamo stati bravi, di squadra, intelligenti a trovare tagliere come un uomo più supero e capace di fare i canistri e c'è nata bene. Quanto è la ricordazione che hai guardato? Beh, diciamo che non c'è stato tanto, l'abbiamo preparato già nel briefing, il briefing, il briefing, il piove nel briefing prima della prima partita, quindi sì, è andata bene, avevamo programmato il camp. Adesso il primo traquarto è stato ora. Adesso dobbiamo facciare il campanale, il nostro lavoro non ci accreditiamo, adesso dobbiamo facciare il campanale. Grazie. Grazie.